L'unedì è stato il primo giorno di lezione per gli studenti romagnoli che hanno ripreso dain e cartelle per tornare in classe dopo le vacanze estive. Tra questi tuttavia ci sono alcuni di loro che già da diversi giorni si stanno impegnando in un progetto scolastico. Non però tra le mura di un istituto, bensì all'aria aperta, e i loro attretti del mestiere non sono penne calcolatrici ma pennelli e colori. Questo è il risultato del padiglione d'arte ambientale, un progetto del liceo Carducci di Forlimpopoli approvato dal Ministero e sostenuto con i fondi europei che mira a riqualificare gli spazi pubblici della città. Da più di una settimana gli studenti accompagnati dai loro insegnanti stanno lavorando per realizzare una grande opera d'arte sui muri del sottopassaggio della stazione ferroviaria. Abbiamo avuto la collaborazione del comune e i ragazzi del liceo delle scienze umane con la partecipazione di una ragazza anche dell'alberghiero ci siamo cimentati in questa grande impresa di abbellire un muro della città. Come si stanno comportando gli studenti? Anche un buon modo per riniziare le lezioni? I ragazzi sono bravissimi, si impegnano tanto e si stanno anche credo divertendo molto e la cosa più bella è vedere la reazione della cittadinanza perché questo comunque è un punto di passaggio e ci stanno ringraziando i forlimpopolesi perché stiamo comunque portando un po' di colore un po' di gioia alla città.